Sono iniziati con qualche giorno d'anticipo i grandi lavori di ristrutturazione della casa protetta Gino Cavazzini. Riusciremo a cambiare tutti i serramenti e a fare un capotto termico di 14 cm su ogni parete dell'edificio. Quindi verrà attuata anche una nuova tinteggiatura e la sistemazione dei giardini e dei cortili. In pratica una grande azione per favorire la presenza dei nostri ospiti ma anche per aiutare l'ambiente a avere meno emissioni in atmosfera visto che si consumerà e si spercherà molto meno l'energia, l'energia del riscaldamento. Questo ci fa notevolmente piacere e tutto questo però sarebbe poca cosa se non fossimo riusciti con l'aiuto di tanti anche portare alcune iniziative all'interno della casa di riposo come corsi di teatro fatti dagli anziani insieme ai bambini come la dinastica così dolce per la terza età e anche diversi bercetesi, diversi cittadini che frequentano la casa protetta Gino Cavazzini con delle iniziative che coinvolgono gli ospiti e questo mi fa molto piacere ed è un incentivo anche ad avere un edificio sempre migliore non solo dal punto di vista dell'efficienza ma anche dal punto di vista dell'estetica.